La soddisfazione chiaramente nei confronti di un'iniziativa a favore della collettività. Come fondazione abbiamo sempre sostenuto la necessità di una sinergia fra tutte le associazioni. Sono due o tre anni che c'è questa iniziativa che non deve essere però una manifestazione gioiosa, sicuramente sì, di divertimento sicuramente sì, ma anche propositiva. Cioè è chiaro che queste riunioni, queste manifestazioni debbano poi far riflettere e vedere di costruire qualche cosa insieme. Ferma rimanendo, io ho sempre sostenuto l'autonomia delle proprie associazioni. Ognuno ha la propria associazione e rimane autonomo nelle proprie associazioni. Però, come dicevo prima, anche con altre associazioni di volontariato nel territorio, è opportuno scambiarsi delle idee, interfacciarsi in maniera da far sì che i progetti possano sempre essere più validi, possano essere sempre più innovativi. Quindi questo è l'augurio che si fa alla Fondazione per il futuro. Fermo rimanendo che la Fondazione è chiaro che ci sarà sempre. E mi auguro che in questo senso possa indirizzarsi anche l'amministrazione comunale, perché è inutile che spieghiamo a volte le energie, soprattutto considerato, e questo fatemeno dire, che la Fondazione ha molta stima delle associazioni di volontariato locali e territoriali. Quindi sicuramente si può lavorare bene, ci vuole tempo, ma i risultati si stanno ottenendo. È una manifestazione che coinvolge moltissime associazioni, dove il Comune per questa volta, l'amministrazione è aspettatrice. Per il prossimo anno cosa avete intenzione di fare o nel futuro prossimo cosa avete intenzione di fare? Sicuramente questa manifestazione ci consente di venire a contatto velocemente con tutte le associazioni, o almeno con la maggior parte delle associazioni presenti sul territorio e sfrutteremo questa occasione per iniziare un percorso. Quello che riusciremo a fare nel tempo lo vedremo a tempo debito. Non posso promettere nulla ad oggi perché abbiamo tutta una serie di emergenze da dover gestire, ma sicuramente la nostra attenzione e la nostra collaborazione con le associazioni è fuori discussione. Grazie. 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 Grazie.